Aumentano contagi e ricoveri, ma gli ospedali non sono sotto pressione. Le infezioni riguardano soprattutto i giovani, l'età media e 27 anni, a dominare la variante Delta. La vaccinazione riduce i rischi, ma bisogna continuare a essere prudenti, dicono gli esperti. Segnali di ripresa per l'economia. Secondo l'Istat, il prodotto interno lordo nel secondo trimestre è aumentato del 2,7% rispetto al precedente. Scende il livello di disoccupazione, ma l'Italia rimane divisa a metà. Il sud sempre indietro rispetto al resto del paese. Fine settimana bollente, con picchi oltre 40 gradi. Oggi sei città sono da Bolino Rosso, Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste. Alla lista, domenica, si aggiungono anche Bari e Catania. Allerte incendi. Nessun Green Pass per andare a messa, ma a confronto aperto con le istituzioni e buon senso di fronte alle diverse situazioni sanitarie delle singole diocesi. Lo ricorda la presidenza della conferenza episcopale italiana in una lettera inviata ai vescovi e alle loro comunità. Medaglia di bronzo per l'Italia nel tiro con l'arco la vince Lucilla Boari. Prima di lei nessuna italiana c'era riuscita. Vale come un oro le sue parole dopo la vittoria. Buonasera, ben ritrovati negli studi di TG 2000. Dunque anche questa settimana l'indice di contagio segna un rialzo. Per fortuna però l'incremento dei casi non impatta in modo preoccupante sugli ospedali. La variante delta è ormai prevalente in Italia ed è necessario, ribadiscono gli esperti, aumentare la copertura vaccinale. Dietrice Bossi e Luciano Pistaglia. La curva sale ancora, i contagi aumentano e torna all'orizzonte il rischio di chiudere di nuovo. I dati di oggi parlano di oltre 6.000 nuovi positivi e 18 vittime. Nell'ultima settimana i ricoveri sono aumentati sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva e anche l'indice di incidenza è cresciuto dai 41 ai 58 casi su 100.000 abitanti. Secondo i dati del monitoraggio settimanale, solo il Molise è a rischio basso. Sicilia, Sardegna e Lazio potrebbero essere le prime regioni a colorarsi di nuovo di giallo, già a metà agosto. Il dato che marca più significativamente la circolazione è le fasce di età che vanno dai 10 ai 19, dai 20 ai 29. L'età media del contagiato è scesa a 27 anni ed è ormai la variante Delta, quella predominante in Italia, con il 94% dei casi registrati. Il vaccino protegge anche da questa mutazione del virus, lo dimostrano i dati lombardi, secondo cui nessuna persona è deceduta tra coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. La campagna intanto va avanti, oggi siamo oltre a quota 31 milioni di immunizzati e si ragiona anche sulla possibilità di una terza dose per i più fragili. Io ho paura, io ho già fatto la seconda, però sono qui che non lo so come andrà, io non sono molto convinta. Ormai peggio di così non può andare, quindi come va va. Cioè però non mi preoccupa se penso alla salute, ho fatto il vaccino e vedremo, non sono preoccupata, no. Sì, sono preoccupata, però también estoy un po' tranquilla porque yo al menos me sono vacunada, no. Vaccinada, yo sono a posto, pero yo siempre me curo. Io no, io ho fatto il vaccino comunque, ho fatto il vaccino e non sono, sto tranquilla, non è male. Però speriamo che no, non torna più, speriamo che non torna, che se no un casino è ancora. Siamo tutti preoccupati, soprattutto per le scuole, per quando i ragazzi dovranno rientrare, speriamo in presenza, siamo tutti un po' disperati. Preoccupo anche perché sono tutte queste varianti che non sappiamo ancora, però vabbè, faremo in modo di usare le stesse precauzioni che abbiamo sempre usato. Penso che se tutti facciamo quello che è necessario fare per evitare di avere perlomeno più ospedalizzazioni di prima, è già un buon passo. Sì, preoccupa, ma anche per la situazione lavorativa, economica, soprattutto, ovviamente anche per la salute, però preoccupa di più l'economia, sinceramente, a questo punto. Preoccupazione anche per la scuola, l'abbiamo sentito da una signora, proprio in vista della ripresa, arriva una proposta da parte del sottosegretario alla Salute Costa per accelerare la campagna vaccinale fra gli studenti over 12. Ad oggi il 30% di loro ha ricevuto la prima dose. Penso che dobbiamo portare i vaccini a scuola e prevedere dei punti di vaccinazione. Lo si potrebbe fare dal 30 agosto al 15 settembre, ha detto Costa. Anche in Cina si segnalano nuovi casi di Covid, in particolare a Nanchino si è sviluppato un focolaio ritenuto il più esteso dopo quello di Wuhan, impennata di casi in Giappone e nelle Filippine. Vediamo allora la situazione nel resto del mondo con Paolo Fucili. Io penso sia utile, dice un uomo, io non ne capisco l'urgenza, ribatte un altro. La proroga al 31 agosto dell'emergenza sanitaria a Tokyo, proprio a Olimpiadi in corso, divide gli abitanti della sterminata metropoli. Mai però prima di ieri il Giappone intero aveva registrato 10.000 nuovi casi di Covid al giorno. Fra una settimana, anche a Manila, capitale delle Filippine, 13 milioni di abitanti, si uscirà di casa per 15 giorni, solo per la spesa quotidiana. La battaglia alla pandemia e alla variante Delta, in particolare in furia da Oriente ad Occidente. Lockdown parziali ma severi sono in vigore in Cina e in Australia. Coprifuoco notturno è di vieto di raduni pubblici. In Kenya, in Brasile, il governatore dello Stato di San Paolo si azzarda a promettere regole meno severe dopo Ferragosto, ma solo se gli indicatori lo permetteranno. Ma anche nell'area molto più vasta e spopolata dell'intera Amazzonia, il Covid ha mietuto almeno 100.000 vittime. In Messico, il bollettino dei contagi sta risalendo verso i 20.000 al giorno di gennaio, quota più alta registrata fin qui. Mascherine obbligatorie di nuovo in alcune zone degli Stati Uniti, dove il contagio avanza e le vaccinazioni rallentano. Per incentivarle, il presidente Biden ha addirittura chiesto alle amministrazioni locali di pagare una specie di premio, 100 dollari, ai nuovi vaccinati. In Nepal, invece, si lamenta questa donna, ci vuole almeno un giorno di fila, la corsa mondiale al vaccino galoppa o zoppica, a seconda dei luoghi. Questo è un tempio buddista in Thailandia trasformato in centro vaccinale per monaci e non solo. Al momento, però, solo un tailandese su 20 è vaccinato, non come in Israele, dove da ieri gli ultrasessantenni stanno già ricevendo la terza dose. Intanto la Cina lancia pesanti accuse nei confronti degli Stati Uniti. Gli USA sono impegnati nel terrorismo del rintracciamento delle origini del Covid, ha scritto su Twitter la portavoce del Ministero degli Esteri, Hua Chunying, a capo del Dipartimento Informazione. E la stessa ha rinnovato l'invito all'America ad accettare l'ingresso degli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità affinché esaminino la situazione sul territorio statunitense. La richiesta di una seconda fase di indagini in Cina è stata nuovamente criticata da Pechino, dunque, che ha tacciato l'OMS di arroganza. La politica, dopo l'ok del Consiglio dei Ministri al nuovo testo, frutto di mediazione, la riforma della giustizia arriva in Parlamento domenica. Il provvedimento introduce tempi fissi per i procedimenti, oltre i quali scatta l'improcedibilità. I dettagli con Leonardo Possati. Ragionevole durata dei processi e garanzie motivate per salvare quelli di mafia, terrorismo e stupro. La riforma della giustizia, firmata Marta Cartabia, dopo otto ore di Consiglio dei Ministri, ottiene l'ok e adesso intraprende l'iter dell'aula dove arriverà la Camera domenica 1 agosto. I lavori inizieranno alle ore 14 con l'esame del provvedimento e poi a seguire nei giorni successivi. C'è stata un'approvazione all'unanimità, con convinzione da parte di tutte le forze politiche, con l'obiettivo di accelerare il più possibile i lavori in Parlamento e, se possibile, concludere nei prossimi giorni prima della pausa estiva questa importantissima riforma. La riforma, chiarisce una nota di Palazzo Chigi, riguarda ovviamente solo i reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 ed entrerà in vigore gradualmente per consentire agli uffici giudiziari di organizzarsi. A tal proposito va ricordato che è previsto anche l'arrivo di 16.000 assistenti giudiziari e di 5.000 assunzioni di personale amministrativo. Tra i punti più controversi della riforma, quello che riguarda i tempi della giustizia penale, la precedente legge, voluta dal ministro pentastellato Alfonso Bonafede, aveva eliminato la prescrizione dopo le sentenze di primo grado, sia di condanna che di assoluzione. Con la nuova riforma la prescrizione non cambia, ma vengono introdotti tempi fissi, trascorsi i quali scatta l'improcedibilità. Due anni per il processo d'appello e uno per quello in Cassazione. Fanno eccezione alcuni tipi di reati, lo dicevamo, associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuale e reati con finalità di terrorismo. Per questi sarà possibile estendere ulteriormente la durata del processo, ma solo su richiesta dei giudici. Soddisfatta la Lega, meno i 5 Stelle, non è la nostra riforma, dice Giuseppe Conte, ma abbiamo contribuito a migliorarla. I dati economici dell'Istat mostrano un paese che sembra essersi rimesso in moto, aumentano il prodotto interno lordo e anche il numero degli occupati, ma avverte la Svimez se il nord riparte e il sud fatica. Luigi Ferraiuolo. L'Italia si sta riprendendo dalla batosta della pandemia, ma non è ancora il momento di festeggiare. L'Istat segnala che nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato del 2,7% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali. Ma il dato tendenziale, che è quello veramente alto e incisivo, è solo una stima in pratica che bisognerà verificare a fine anno. Infatti deriva dal confronto con il punto di minimo toccato nel momento più duro della pandemia nel 2020. In sostanza, con gli ultimi dati dell'Istat e la ripresa economica stimata per il biennio 2021-2022, solo il centro-nordo recupererà integralmente il PIL perso nel 2020, arrivando ai livelli pre-crisi. Mentre il sud spiega alla Svimez, la maggiore associazione economica del paese, nelle anticipazioni al rapporto 2021, l'economia e la società del mezzogiorno, rimarrà indietro e a fine 2022 avrà ancora da recuperare circa l'1,7% del PIL, perso durante la pandemia. Un dato che si somma ai 10 punti persi nella crisi 2008 e non ancora recuperati prima del Covid. Il PNNR allo stato attuale non servirà a colmare il divario. Dati positivi e più concreti arrivano anche dal fronte dell'occupazione. Il tasso di disoccupazione scende nel mese di giugno al 9,7%, tornando dopo 5 mesi, sotto la soglia del 10%. Nel confronto anno sono state assunte finora 267.000 unità in più rispetto allo scorso, in pieno coronavirus. Il paese sta quindi camminando verso i livelli pre-crisi. Diciamo che se questa situazione rimane così dinamica, nel 2021 si recupera una grande parte di quello perso nel 2020, cosa che invece a noi, sulla base del nostro modello e così via, risulta meno rilevante. Noi diciamo che aumenta del 5%, ma con questi ritmi dovrebbe aumentare dell'8% il prodotto interno lordo nel 2021. Allora il 2022 è scontato, almeno se non succedono cataclismi, che recuperiamo tutto e andiamo anche al di là. A livello territoriale, sia per l'occupazione che per il prodotto, quello che noi riteniamo significativamente certo è che il sud reagisce molto più lentamente, sia perché ha accumulato un problema molto più rilevante in termini di disoccupate e di inattivi, sia perché c'è un settore che speriamo con l'estate riprenda molto rapidamente il turismo, la ristorazione, quello ha sofferto moltissimo ed è più pesante al sud che al nord. Se c'è bisogno di investire al nord e al sud in un modo combinato, in un certo tipo, avendo in mente una strategia, noi siamo per quel tipo di intervento, non è un fatto di salvare il mezzogiorno, il fatto è di salvare l'Italia. Intanto in Italia accelera l'inflazione, sempre secondo l'Istat a luglio, l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo per l'intera collettività ha registrato un aumento dello 0,3% su base mensile, dell'1,8% su base annua, questo a causa del boom del prezzo dell'energia. Una stangata per luce e gas, dice Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, per una famiglia tipo nel mercato tutelato si tratta di una batosta annua pari a 56 euro in più per la luce e 158 euro in più per il gas, quindi una maggior spesa complessiva pari a 214 euro. In migrazione proseguono gli sbarchi sulle coste italiane, ma tante persone purtroppo continuano anche a morire nel tentativo di scappare dai propri paesi e fra le vittime ci sono anche bambini. Marco Burini. Era un bambino come questo, il piccolo afgano di 5 anni, morto affogato, mentre con la famiglia tentava di attraversare un fiume che divide la Bosnia-Herzegovina dalla Croazia, a Novigrad, e la cosiddetta rotta balcanica. Proprio oggi Italia e Slovenia rafforzano i pattugliamenti lungo il confine. Il bimbo è scivolato dalle braccia del padre e i soccorritori l'hanno trovato un'ora dopo. Una famiglia in fuga da un paese distrutto dalla guerra, l'Afghanistan, abbandonato nelle grinfie dei talebani dalla coalizione occidentale. Come da un altro paese disastrato, la Tunisia, stanno arrivando a centinaia a Lampedusa. Ma ci sono anche tanti iraniani e iracheni, come quelli sbarcati a roccella ionica, in Calabria. Guerre, miseria, sconvolgimenti climatici spingono le persone a partire, anche per destinazioni dove possono subire un trattamento inumano e degradante, che è la motivazione con cui il tribunale di Münster, Germania, ha deciso di non rispedire in Italia due profughi, un somalo e un malliano, come vuole il meccanismo di Dublino. Il tribunale tedesco ricorda che il decreto Salvini, nonostante la riforma dell'anno scorso, di fatto funziona ancora e queste persone rischierebbero di finire per strada, senza un lavoro e senza cure. Grazie a Dio nel Mediterraneo continuano a operare organizzazioni come la Sea Watch, che la scorsa notte ha soccorso in acque maltesi 33 persone che annaspavano in acqua, mentre la cosiddetta guardia costiera libica tentava un respingimento illegale, fa sapere la ONG tedesca, che con altre associazioni è la spina nel fianco di un sistema che fa delle migrazioni, sempre e soltanto un problema di sicurezza, e che per un bimbo morto forse si commuove, ma non si smuove neanche di un millimetro. Un paese, l'Afghanistan, lo abbiamo sentito distrutto dalla guerra, è per questo che in tanti scappano verso la Turchia, Turchia che ha fermato diverse centinaia di afghani in fuga dall'avanzata dei talebani. In diverse zone dell'Afghanistan infatti si stanno verificando violenti scontri e ci sarebbero decine di vittime fra i civili, anche se non c'è ancora un bilancio ufficiale. Forte preoccupazione per l'escalation delle violenze nella zona di Kandahar, nel sud del paese, arriva dalla missione di assistenza delle Nazioni Unite. Serve soluzione politica giusta e duratura che porti pace e sicurezza, ha detto il presidente americano Biden, lo ha fatto accogliendo e ringraziando gli afghani giunti negli Stati Uniti nel quadro dell'operazione che ha portato in America un primo gruppo di traduttori e interpreti che hanno lavorato con diplomatici e soldati americani in Afghanistan appunto. E sono tanti i profughi che rischiano di finire nella rete della schiavitù. Oggi ricorre la giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, una vittima su tre minorenne e di genere femminile, secondo Save the Children. Maurizio Rischi. Le donne continuano ad essere i principali obiettivi dei trafficanti di esseri umani. La maggior parte di esse sono ridotte in schiavitù e sottoposte a sfruttamento sessuale. Sempre più bambini sono oggetto di tratta. Altre vittime sono costrette a sposarsi, a chiedere l'elemosina, al lavoro forzato e ad imbracciare le armi. La piaga del traffico di persone è aumentata durante la pandemia di coronavirus. È preoccupante quanto emerso dal rapporto 2020 dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine pubblicato in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la tratta di esseri umani. Secondo il rapporto ONU, solo nell'Unione Europea il 72% di tutte le vittime sono donne e ragazze. Inoltre nel Mediterraneo sono aumentate le tragedie umane legate alla tratta di persone e al traffico di migranti. Anche in Italia sono state identificate diverse forme di tratta. Secondo l'Ufficio di coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni è stato registrato il grave fenomeno di migliaia di ragazze nigeriane vittime soprattutto di sfruttamento sessuale. Sempre in Italia, nigeriani sbarcati quando erano minorenni sono stati costretti all'accattonaggio, mentre donne ivoriane e guineane arrivate via mare sono state schiavizzate per matrimoni forzati e servitù domestica. Lo sfruttamento dei migranti è un fenomeno inaccettabile. Non dobbiamo permettere che sia in qualche modo normalizzato nel dibattito pubblico, ha denunciato l'Agenzia ONU per le Migrazioni. Papa Francesco con un tweet ha invitato tutti a lavorare insieme alle vittime per trasformare l'economia della tratta in un'economia della cura. Cambiamo argomento, il tanto temuto bolino rosso è arrivato e arriva proprio questo fine settimana con temperature elevate in molte città. Vittore Torre. Sta per arrivare il picco del caldo estivo, il weekend si preannuncia infuocato in quasi tutta Italia. Al nord, soprattutto sulle aree alpine e prealpine, non mancheranno i temporali, anche di forte intensità, ma nel resto d'Italia il caldo si farà sentire come. Secondo le previsioni meteo di domani, l'anticiclone africano porterà la più forte ondata di calore di quest'estate. Le temperature raggiungeranno i 40 gradi, in particolare al sud, al punto che sono almeno 6 le città da bollino rosso, che diventeranno addirittura 8, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste. Le città roventi saliranno ad 8 per la giornata di domenica 1 agosto, quando alla lista si aggiungeranno Bari e Catania. Sono invece 7 le città attualmente con bollino arancione. Parliamo di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma e Viterbo. A queste si aggiungerà Ancona nella giornata di domenica. Temperature che, assieme alla mano dei piromani, favoriscono gli incendi. Dopo la Sardegna, anche la Sicilia fa i conti con i roghi. Cesare Cavoni. Allerta rossa della protezione civile oggi in quasi tutta la Sicilia per i rischi incendi. Nella notte, infatti, una serie di vasti roghi, molto probabilmente di origine dolosa, dopo Enna ha messo in ginocchio la provincia di Palermo, con la cenere arrivata anche in centro. Le fiamme hanno bruciato Monte Pizzuta, a Piana degli Albanesi, dove il sindaco Rosario Petta, intorno alle 23, ha ordinato l'evacuazione da tutte le abitazioni in prossimità della montagna. In fiamme anche Portella della Ginestra, luogo simbolo delle lotte dei lavoratori. Nel palermitano bruciata la vegetazione a Caccamo, Valle d'Olmo, Borgetto, Palazzo Adriano, Prizzi, Morreale, Bagheria, Partinico, Casteldaccia, ma anche nei pressi dell'autostrada Palermo, Mazzara del Ballo, tra gli svincoli di Via Belgio e Tommaso Natale. Allarme anche a Messina, dove sono state impegnate nove squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme nelle colline tra Catarraffi, Camaro, Complesso Mito e Pistunino. Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Nazionale Terzo Settore, è stata riconfermata come Vicepresidente del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, che si è insediato ieri alla presenza del Ministro del Lavoro Andrea Orlando. Rinovata in parte la composizione, gli enti rappresentati passano dai 42 a 50. Non servirà il Green Pass per partecipare alle celebrazioni liturgiche, ma dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana arriva un appello al buonsenso, oltre che un ringraziamento a malati e personale sanitario. Nicola Ferrante. Nessun Green Pass per andare a messa, ma confronto aperto con le istituzioni e buonsenso di fronte alle diverse situazioni sanitarie delle singole diocesi. Lo ricorda la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in una lettera inviata a tutti i Vescovi alle loro comunità per rivolgere e scritto una parola di gratitudine in una stagione segnata da fatiche. Il grazie si estende anche agli ammalati, ai medici e agli operatori sanitari. Parole che arrivano nel tempo estivo, durante il quale le comunità, prosegue la lettera, sono impegnate nella progettazione del prossimo anno pastorale. La ripresa autunnale delle attività, nota la CEI, sarà probabilmente ancora condizionata dalla pandemia e per questo esorta non è tempo di inutili contrapposizioni ma di dialogo, indicando nel cammino sinodale del prossimo autunno l'occasione per il rilancio delle comunità. Sul fronte pastorale non mancano indicazioni concrete. Raccomandiamo, scrive la Presidenza CEI, di non far mancare al popolo di Dio, in condizioni di sicurezza, gesti di preghiere e di partecipazione. Perciò è allegata anche una scheda sul Green Pass e sulle celebrazioni liturgiche, in cui si ripercorrono le principali regole previste dal 6 agosto, giorno in cui entra in vigore. Come si diceva, non è richiesto per partecipare a messe e processioni, per le quali resta valido il protocollo in atto da più di un anno. È invece obbligatorio in ristoranti, bar, musei, sagre e piscine gestiti da enti ecclesiastici. Esclusi invece dall'obbligo centri estivi e oratori per l'infanzia, anche se si consumano pasti. La lettera lo precisa chiarendo che le persone coinvolte sono esplicitamente escluse dall'obbligo Green Pass. Infine, una riflessione specifica viene affrontata sulle processioni. Per via della varietà di prassi non è possibile fornire indicazioni puntuali, spiega la CEI, che però ricorda l'obbligo di mascherina durante una processione. La modalità a stazioni è suddivisa in piccoli gruppi mai superiori a mille persone e infine una distanza interpersonale di un metro e mezzo fra ciascun fedele e di due fra chi canta. Norme, va detto, introdotte già all'inizio della scorsa estate, per la ricchezza di tradizioni che caratterizza il nostro paese. È stata approvata all'unanimità la dichiarazione di Roma dei ministri del G20 della Cultura, lo ha annunciato il ministro della Cultura, Dario Franceschini, al termine dei lavori del G20 a Palazzo Barberini, a Roma e, su proposta dell'Italia, la ministeriale sarà permanente. L'Italia, aggiunto Franceschini, è tornata a essere il paese con maggior siti UNESCO ed è bello che questo primato sia stato festeggiato in concomitanza con la prima riunione dei ministri della Cultura del G20. Ci prendiamo la pausa tra poco. Eccoci di nuovo in studio con una notizia che arriva dalla Tunisia. Il parlamentare Yassina Iari, un indipendente eletto nella circoscrizione all'estero tedesca, è stato arrestato. Lo comunica sua moglie sul suo profilo Twitter. Iari è stato tra i blogger di riferimento dell'ala giovanile della rivoluzione dei gelsumini, il movimento popolare che dieci anni fa portò il dittatore Ben Ali a lasciare il potere. È tutto, vi lascio al meteo, poi c'è la messa, TG2000 torna alle 20 e 30, più tardi.